Buongiorno innanzitutto, il supporto, voglio precisare, arriva dalla casa madre, noi facciamo parte di un'azienda con base in Cina, dell'unonimo gruppo Ayer. Loro, avendo già vissuto questa situazione, appena hanno saputo che anche qua in Italia si stava espandendo il coronavirus, ci hanno immediatamente mandato delle mascherine o comunque tutti quegli strumenti utili per tutelarsi da un possibile contagio. Visto che Ayer è un'azienda che ha casa madre in Cina, come state gestendo i rapporti con loro? Ci sono delle situazioni particolari in merito? Stiamo semplicemente applicando il protocollo nazionale stabilito dal Ministero della Salute, quindi i colleghi cinesi che sono rientrati dalla Cina sono stati sottoposti a quarantena domiciliare e segnalata la loro presenza all'Ulss2. Voglio anche precisare che in questo momento loro comunque ci stanno dando delle indicazioni, dei suggerimenti per affrontare meglio questa situazione, quindi la richiesta di adottare all'interno degli uffici le mascherine, evitare contagi con fornitori esterni e anche ad esempio chiedere a tutti i dipendenti prima di venire al lavoro di misurarsi la febbre. Stiamo compartimentando il più possibile gli uffici, quindi spostando le postazioni lavorative, i vari portatili, i vari computer, i nostri colleghi e circa la metà dei nostri dipendenti sta in questo momento lavorando da casa in modalità smart working.